Un'autocisterna e un camion coinvolti in un incidente stradale a Monsummano in via variante Fossetto nella zona industriale. Erano da poco passate le 10 quando un'autobotte che trasportava GPL ha tamponato un tir. L'abitacolo del guidatore della cisterna è stato completamente tranciato via e accartocciato e l'autobotte è rimasta in bilico sul Fossetto. Quasi un miracolo che il conducente, incastrato tra le lamiere, non sia rimasto ferito gravemente. Sul posto sono accorsi i volontari della pubblica assistenza di Monsummano che hanno accompagnato l'uomo Alcosma e Damiano Di Pescia. La polizia municipale ha temporaneamente chiuso la strada per poi riaprirla al termine dei lavori dei vigili del fuoco che hanno dovuto travasare il GPL trasportato dal veicolo in un'altra autobotte.